Una signora, una signora con lunghi capelli, con la lunga treccia, che non sono le lunghe trecce, gli occhi azzurri e poi chissà che, che cantava quel noto cantautore italiano. No, questa signora dalla lunga treccia e basta, la signora Klopp, credo, se non sbaglio, se non vado errato, è proprio Klopp, porta avanti questa politica in qualche modo che disegna degli scenari fantastici. E in questi scenari fantastici vediamo, ad esempio, che molto spesso viene riportato l'Alto Adige all'Austria, l'annessione proprio dell'Alto Adige all'Austria. Questa è una cosa divertente, sicuramente, spesso nella mia mente ho fantasticato su questa cosa qui. Ho detto, ma chissà che succederebbe se veramente l'Alto Adige tornasse ad essere austriaco come più di cent'anni fa. Beh, forse ci sarebbero delle cose, sicuramente, che alla signora Klopp non piacerebbero più di tanto. Dopo un po', magari qualche austriaco, qualche austriaco della zona di Vienna o di Salisburgo, eccetera, potrebbe iniziare a indicare il sud Tirolo, i sud Tirolesi nello specifico, come i terroni. Perché sarebbero loro quelli più a sud, questa cosa sarebbe sicuramente molto divertente, un po' goliardica, ovviamente, senza offesa per nessuno. E poi la signora Klopp si arrabbierebbe, probabilmente scatenerebbe le sue ire contro Vienna, cercherebbe di avere un'autonomia finanziaria. Ma Vienna ha sicuramente un no teutonico, molto diverso dal no italiano, latino, che oppone spesso Roma, che però è un po' trattabile, un po' discutibile in qualche modo. La signora Klopp probabilmente a quel punto sarebbe anche un po' scocciata e dopo qualche mese, forse un anno al massimo, tornerebbe a stampare gli striscioni, le magliette e gli adesivi, questa volta con scritto Torniamo all'Italia, che si stava molto meglio, torniamo a combattere per il sogno, però speriamo che non si realizzi. Ha, 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 ha.